mtv e cube presentano in collaborazione con la regione puglia la festa d'inaugurazione della biennale dei giovani artisti dell'europa e del mediterraneo un grande evento live a ingresso gratuito con meg e i dj set di francesco farpa stefano fontana congo rock e lab 080 giovedì 22 maggio a partire dalle 22 fiera del levante vari dal 22 al 31 maggio vari diventa la capitale della creatività giovanile musica teatro danza arte visiva cinema letteratura poesia e tanto altro ancora per info vai su www.biennale puglia 2008.org